www.fema.it Guadagni tre volte di più. Quest'anno le olive vanno a 2 mila di dal quintale. Beh, e chi se ne compra? Io. Ciccio Paradiso! Non sai pure tu che fine fanno quelli che si mettono contro l'usino? Bianca, tu stai scherzando con il fuoco. Secondo Paschetti viene a sapere della fracoppiata. Quest'anno non si paga, non si regala. Tutti qua stasera. A Ciccio ci penso io. Bianca, portano poco di veino. Che hanno cito la mia figlia Bianca, tu? A me non mi ha mai piegato nessuno. E se qualcuno vuole fare la guerra con me? Qua è un casino. Fa la guerra questo delinquente, tu devi essere come allora. Non sappiamo la terra e noi facciamo il prezzo. Siamo prisa! O Ciccio è stato. Secondo me sa tutto. Basta farci cichare il sangue a questi forestieri. Chi semina spine non può camminare scalzi. Ciccio! 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 Autore dei sottotitoli e di link." Ho monter sullo. Ok, lei mi ha sc độngato. Grazie a tutti